E' arrivato finalmente il momento di partire. Sono contento, perché presto raggiungerò papà, anche se non so quando. Ma allo stesso tempo sono agitato, impaurito. Siamo partiti presto, molto presto. Era buio e stranamente sentivo freddo. Eravamo in tanti, tantissimi. Salite, salite in fretta! E così sono partito. Mamma voleva che dormissi, ma non ci riuscivo. E mille pensieri mi balenavano per la mente. Ricordavo i miei amici lontani. E' il paese che forse non avrei mai più rivisto. E se avessimo incontrato dei mostri. Il viaggio fu lunghissimo. Ero molto stanco. E dagli occhi della mamma mi resi conto che non eravamo ancora arrivati. E via così, un altro viaggio, questa volta in treno. Le immagini passavano veloci nel finestrino. Sceso dal treno, vedi papà e piansi, sconsolato. Ancora oggi, infatti, ho la sensazione di non essere ancora arrivato a destinazione.